Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi è la festa di San Marco, evangelista, ma così per dare continuità non leggo il Vangelo, ne ha pure gli altri degli Apostoli, però la prima lettura. La prima lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, siamo agli ultimi versetti, dal versetto quinto del capitolo quinto, quindi la conclusione di questa lettera. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Rivestitevi di Cristo, insomma, colui che è stato l'umile, e non perché non avesse consapevolezza di sé, di essere figlio di Dio, l'umiltà appunto non ha a che fare con sentirsi spregevoli, non adatti, senza qualità, no, 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 no. L'umiltà, l'humus ha a che fare con la terra, e la terra porta frutto, però la terra è umile, però la terra attende, la terra sa custodire, ecco, questo è un po', no, se vogliamo, il significato dell'umiltà. Ecco, saper custodire, saper proteggere, saper aver cura, e la superbia invece è un'altra cosa, e nessuno di noi, come dire, è esente da questo, no? Cioè, dentro di noi c'è sempre un combattimento tra la superbia e l'umiltà. Ecco, le nostre preoccupazioni dobbiamo sempre abituarci, ecco, non solamente a tenerle dentro di noi, ma a metterle proprio su di Lui, riversare su di Lui ogni nostra preoccupazione. Nella preghiera noi possiamo fare questo, riversare su di Lui ogni cosa che non abbiamo chiara, ogni cosa che ci angoscia, ogni cosa che ci ha ferito, ogni cosa, ogni cosa, ogni cosa. Perché? Perché la grazia di Dio lì dentro scava, mitica, perdona, riconcilia, solleva. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico è il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. È un'immagine potente. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria in Cristo Gesù, Egli stesso vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. Insomma, in Lui è il nostro fondamento. E se è il nostro fondamento, la casa non crolla, la casa è ben stabile. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi, ancora l'insistenza. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Che bello questo finale. Ancora una volta sottolineo, citare una persona concreta. Insomma, gli apostoli creano dei legami veri, autentici, Silvano. E poi questo invitare, ecco, a intessere legami fraterni, amorevoli. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Noi, va già bene se ci salutiamo, altro che con un bacio fraterno, no? Anche tra noi cristiani. Dobbiamo recuperare questa semplice fraternità. Che bello. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri, insomma, mi sono preparato per partire per Roma e quindi ho dovuto fare un po' di cose per sistemare questi, appena questi due giorni e mezzo, ecco, in cui sono via. Ho incontrato alcune persone che non vedevo da un po' di tempo. Mi ha fatto piacere. E basta, ecco, queste sono state le mie cose belle. Oltre, insomma, poi sempre ad alcuni messaggi di voi che sono molto grati e personali, ecco. Ale, buona giornata a tutti voi.